Ciao a tutti, il mio nome è Saga e sono lo specialista di prodotto qui in LG. In questi video tratteremo gli argomenti principali alle vostre domande più frequenti. Oggi parleremo di cosa è la tecnologia di LG, Direct Drive. Il motore è uno dei componenti integrati più importanti di una lavatrice, in quanto è la tecnologia usata per fare girare il cestello. Se non hai mai usato prima una lavatrice LG, potresti avere familiarità con il sistema con motore convenzionale utilizzato sulle lavatrici, dove il motore e il tamburo sono collegati con una cinghia. Col tempo la cinghia inizia ad allungarsi e potresti notare un aumento delle vibrazioni. Questo aspetto può causare un aumento del consumo di energia nel tempo. Qui in LG, abbiamo eliminato la necessità di una cinghia e riprogettato il nostro motore da collegare direttamente al cestello, creando tecnologie di azionamento diretto. Quindi, le nostre lavatrici sono più silenziose e sono più efficienti dal punto di vista energetico. Grazie al motore Direct Drive, le nostre lavatrici e la vasciuga hanno un maggior controllo sul cestello, essendo in grado di muoverlo in sei diversi movimenti. Rotolamento, battitura, filtrazione, oscillazione e sfregamento. Questi movimenti consentono le migliori condizioni di lavaggio per i tessuti. È più efficiente nel rimuovere le macchie e mantenere i tuoi vestiti nuovi più a lungo. La trasmissione diretta è disponibile su tutti i nostri modelli e viene fornita con una garanzia del motore di 10 anni. Per ulteriore assistenza trovi tutte le informazioni sul nostro sito. Grazie per la visione!